Noi diciamo ulteriori segnali di miglioramento, quindi la positività è una positività limitata e ci viene soprattutto al settore dell'edilizia, l'edilizia che ha l'effetto trascinamento del sisma aquilano che coinvolge un po' in subappalto tutte le imprese abruzzesi e ci dà segnali positivi anche sul fronte occupazionale. Rispetto al resto dell'Italia noi siamo in netto ritardo, comunque anche noi abbiamo agganciato gli indicatori economici che ci danno segnali di ripresa, tal che parlavamo un paio di settimane fa della congiuntura economica del secondo trimestre in manifatturiero che dà segnali di grossa ripresa e soprattutto segnali di grossa ripresa nell'occupazione legata all'industria. Rispetto all'Italia stiamo un po' in svantaggio perché alcune proiezioni anche degli istituti di ricerca nazionali e quelle nostre lo stesso, ci dicono che per esempio il PIL dell'Abruzzo crescerà grossomodo dello 0,7% rispetto nel 2016, sto parlando, rispetto a un 1,1-1,1,3% previsto per l'Italia. Ovviamente noi risentiamo gli effetti trascinamenti che ci arrivano successivamente. Assolutamente, tutto il settore economico è vessato soprattutto da una fiscalità enorme, noi calcoliamo circa il 68% che si applica alle imprese e quindi in qualche maniera la defiscalizzazione è un elemento principale. La sburocratizzazione lo stesso perché nel dedalo burocratico la maggior parte delle imprese annaspano e perdono ovviamente tempi preziosi e poi l'accesso al credito che seppur dà segnali di evidente sblocco incomincia a darli perlomeno, quantomeno, rimane sempre più bloccato e chiuso al riccio. In questo primo semestre il risultato migliore è stato ottenuto dalle imprese e dalle costruzioni che hanno aumentato, fatturato, produzione e commesse. I risultati sono ancora un pochino negativi relativamente al commercio e all'artigianato però nell'artigianato si vede la ventata di positività relativa al comparto dei servizi alle imprese che fanno ben sperare per il futuro.